Non tutti i ristoranti sono uguali. Buonasera, benvenuti nel nostro ristorante. Prego, accomodatevi pure. Ecco il tavolo che fa per voi. Ma dopo pochi minuti... Eccomi da voi! Allora, volete ordinare? Avete letto il listino dei nostri vini e delle nostre birre di produzione? Sì, grazie, ma prima di scegliere cosa bere, vorrei decidere cosa mangiare. Avete una lista oppure tutto alla carta? Oh, no signore, noi del piano di sopra ci occupiamo solo delle bevande. Per mangiare lei dovrà scendere al piano inferiore. Ma siete pazzi? Io voglio mangiare e bere allo stesso piano. Questa è una vergogna! Le chiedo di calmarsi. Queste sono le nostre regole. Al piano superiore si beve e al piano inferiore si mangia. Ma veramente? Ma non capisco, è assurdo, non capisco! Come sarebbe a dire che non hai capito? Testina di legno! Su bevi e giù mangi. Giù mangi. Nei cinemi.